Attenzione il braccio di Bentner, è caduto malissimo l'attaccante danese è caduto con tutto il suo peso, è ricaduto a terra sul braccio e con il peso addosso c'è Storani che dice al quarto uomo state a vedere perché il braccio si è scomposto ed effettivamente non è una bella immagine non riesce quasi a muoversi l'attaccante danese che certamente ha fatto poi Nicola Fortuna in un altro momento della sua vita perché è veramente bello gli sta pagando tutte queste cose e ora ve lo stiamo rivedendo vediamo se è solo un'inzaccata ma credo che Bentner sia andato direttamente nello spogliatoio e con la... Grazie.